Compadre Francesco Occhetta qui all'Antoniano di Padova per il primo incontro di UCI da Legge qui a parlare di democrazia, di partecipazione e della presenza dei cattolici nella politica. Nel suo intervento è partito dallo status attuale di permacrisi dopo la pandemia ma anche prima e ha raccontato di come in qualche modo i cattolici che non hanno più una casa unica di riferimento da molti anni in qualche modo abbiano fatto perdere la loro presenza e la loro testimonianza in politica. È vero questo o in qualche modo è venuta meno una comunità? È parzialmente vero perché la speranza che dovrebbe essere la forza e il fuoco che ci guida sta un po' lasciando spazio alle paure e allora la permacrisi che il susseguirsi di una crisi dopo l'altra il non riuscire a capire e ad analizzare una che è già entrata nell'altra quindi c'è la pandemia e poi c'è la guerra e poi c'è il dissesto idrogeologico degli stati, la sovranità che viene meno, grandi temi che non si riescono più a gestire eccetera ci stanno facendo dire che il ruolo dei cattolici potrebbe essere come quello del dopoguerra quello di enzima e di lievito perché le forze si stanno concentrando ai lati, ai grandi diciamo estremi con spinte centrifughe e noi dobbiamo riportare a spinte centrifughe, a centripete, le tensioni sociali che ci sono per farle diventare proposte di legge oppure riforme. In uno dei suoi libri tra l'altro con la prefazione di Davide Sassoli ha fatto la distinzione tra popolarismo e populismo oggi dal 2014 ma in tutto il mondo e soprattutto in Europa il populismo in qualche modo ha fatto breccia però alla fine quando ci si trova a dover fare i conti con il governo molti slogan si arenano di fronte alla realtà e tra questa distanza tra racconto politico e realtà in qualche modo la partecipazione e il voto viene a mancare e come si può recuperare quello che lei prima ha definito la cultura della mediazione che un po' avevano le forze del centro e le forze dei cattolici un tempo. Quell'antidoto a questa domanda che lei mi ha fatto è la cultura dell'incontro cioè l'incontrare e stare in mezzo alla gente che soprattutto non è più affezionata alla politica e non vota più ci sono 18 milioni di persone che in Italia non votano e una persona su due che va in chiesa la domenica i sondaggi dicono che non vuole sapere della politica quindi questa è una domanda che crea anche diciamo un'offerta politica grande che non è ancora riempita ma al di là dei tecnicismi quello che a noi interessa è rilanciare una dimensione antropologica e una dimensione come dire di valoriale e anche di progettualità che permetta di includere culture e persone che oggettivamente oggi sono scoraggiate quindi la speranza che vince la paura si fa solo attraverso le competenze e luoghi da riaprire I giovani che sono spariti per certi punti di vista ma in realtà ci sono ancora ma lei ha detto che si sono individualizzati fanno fatica ad entrare nella comunità e nelle comunità come si recuperano? Anzitutto bisogna dire ai genitori che la politica non è da demonizzare ma è importante perché tutto quello che noi abbiamo ricevuto dalle generazioni passate lo possiamo perdere velocemente chi si immaginava che la guerra potesse entrare in Europa in maniera così forte e prepotente e che l'abbiamo sotto casa? Nessuno Io ho visto paesi in America Latina che a diritti conquistati in poco tempo possono essere riassorbiti e la popolazione può stare male Allora per far sì che la democrazia non slitti in olocrazia che è il governo appunto dei ricchi noi dobbiamo anzitutto trasmettere l'amore per la politica ai nostri giovani e chiedere di impegnarsi nel servizio a chi ha bisogno perché questo servizio poi si strutturi in politiche la parabola del buon samaritano dice che io osservo il bisogno che incontro non lo devo inventare ma se noi non capiamo o non lo osserviamo o non incontriamo la persona che chiaramente ha bisogno noi non possiamo ristrutturare o rilanciare politiche A questo si intreccia la sfida della sinodalità che è una sfida interna alla Chiesa ma che in qualche modo ne traduce il suo essere anche all'esterno e come si affronta questa sfida? La sinodalità è anzitutto un processo non solo di riorganizzazione della vita ecclesiale ma è proprio un nuovo modo di stare nella Chiesa un nuovo modo di assumersi le responsabilità e fare sì che la Chiesa non sia pretocentrica ma che sia rispetto ai carismi che la comunità cristiana ha ciascuno possa portare attivamente il proprio mattone per costruire la Chiesa e allora questa è una sfida che apre un processo noi non sappiamo dove arriverà ma sappiamo che quello che noi stiamo vivendo è comunque già da archiviare perché non sta dando frutto quello che invece si è aperto con questo processo è la possibilità di irrigare di coltivare e di nutrirsi di quei frutti che come la vita del seme ci insegna avremo quando a tempo debito quando la natura porterà i suoi frutti in questo